La pena di morte nel Vaticano Forse non tutti sanno, o hanno ben chiaro, che la Chiesa Cattolica, quale autorità che ha esercitato anche il potere politico sul territorio italiano, o su parte di esso, ha sempre praticato la pena di morte per i reati ritenuti più gravi. Esempio lampante di ciò si può, ad esempio, trovare nel film Il Marchese del Grillo, ambientato a Roma ad inizio del 1800, dove si vede che frequenti erano le condanne a morte propinate da Papa Pio VII. Ed anzi, per uno scherzo del Papa, anche il Marchese del Grillo viene condannato a morte. In dottrina cristiana le principali posizioni possono sinteticamente essere ritenute quelle di Sant'Agostino, contrario alla pena di morte, e Sant'Ommaso, invece favorevole alla pena capitale, quando necessaria ad estirpare dalla società un male, ossia il reo, non più recuperabile. In teologia si può ricordare Mosè, capo popolo che inflisse centinaia di condanne a morte, e che introdusse la pena di morte per le donne ad utere tramite lapidazione. E certamente anche Gesù di Nazareth, che sebbene non si sia mai pronunciato espressamente sul tema, si può ritenere contrario alla pena di morte. Ciò perché nel famoso episodio della adultera, Gesù si servì del suo carisma per salvarla dalla morte. L'ultimo condannato a morte della Chiesa Cattolica è stato un tal Agatino Bellomo, accusato di omicidio e ghigliottinato in Palestrina, il 9 luglio 1870. Egli fu l'ultimo dei giustiziati dal Vaticano, anche se la legge che prevedeva la pena di morte, sebbene inapplicata, rimase in vigore fino al 1969, quando la pena di morte fu abolita ufficialmente dal Vaticano. Giovanni Paolo II, nel 2001, mise definitivamente la parola fine, nello Stato Vaticano, alla pena di morte, cancellandola definitivamente dalle leggi fondamentali. Grazie a tutti.